Bastardi, maledetti, bastardi, ma come può non lucrare sulle spalle delle persone? C'è una manipolazione nel mondo delle aste immobiliari che manco vi immaginate, che ci sono coinvolti tutti, alcuni giudici, alcuni magistrati, i custodi, le agenzie immobiliari, le agenzie create ad hoc, e nelle aste non ci fanno arrivare, ci arrivano sempre loro, hanno una spartizione, costituiscono delle società ad hoc, SRL, con capitale di 10.000 euro, riescono a fare acquisti per centinaia di migliaia di euro, senza nessun controllo, perché c'è magna magna generale, nonostante le denunce, qui a Catania ad esempio, qualunque cittadino possa denunciare un fatto del genere, essere vittima, gli scrivono le denunce a modello 45-46, ciò che significa che dopo un reddito, quel cittadino non otterrà mai un cazzo, mai nessuna giustizia, è il momento che il popolo veramente scenda in piazza incazzato, bastardi, maledetti. Grazie.